Insomma sono moltissime le materie che abbiamo trattato e ripeto l'abbiamo fatto con trasparenza, con lealtà, con franchezza, penso e spero che possa essere utile per ingaggiare un interlocutore che è sicuramente molto molto importante in questa fase. Si concordano se apriranno stabilimenti di auto elettriche in Italia? Non ho capito, mi perdoni. Avete concordato con il Presidente che si suffia se e quando apriranno gli stabilimenti di auto elettriche? Noi ci siamo limitati a definire accordi di cornice, poi non sta a noi entrare nel merito delle singole intese che si possono sviluppare, dei singoli investimenti che si possono sviluppare. Sicuramente il tema della mobilità elettrica è uno dei temi inseriti all'interno del nostro memorandum di collaborazione industriale che è una delle intese più importanti che abbiamo sottoscritto, riguarda molte materie importanti, mobilità elettrica, cantieristica navale, ci sono le materie legate generalmente alla transizione energetica, poi però ovviamente saranno i tavoli tecnici e i ministri competenti a lavorare nello specifico sulla realizzazione di queste intese. Guardi, ovviamente è un dialogo in atto, io posso dirle questo, penso che la Cina in questa fase, ovviamente noi conosciamo la situazione, io ho ribadito le mie convinzioni su questa materia, l'aggressione russa all'Ucraina è un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli e alle regole del diritto internazionale, quando le regole del diritto internazionale vengono messe in discussione chiaramente producono un domino, che noi stiamo già vedendo, perché le crisi vanno moltiplicandosi, questo produce per reazione una frammentazione che è anche geoeconomica e alla fine diventa una sorta di domino, cioè sulla lunga distanza globalizzazione economica e messa in discussione delle regole del diritto internazionale non cammineranno insieme, quindi questo probabilmente può convenire a Putin, non ne sono certa, ma probabilmente può convenire a Putin, credo che non convenga a nessun altro e credo che tutti quanti debbano valutare le loro priorità.